Nasce nel 1999 come palo di gruppo, nel corso di questi anni si è integrata nelle discipline di avviamento alla danza, danza moderna, classica, un po' di coppia, di gruppo e penitenza. La coreografia è con G7, gli allievi della maestra Angela Regna ci presentano desnudamente. La coreografia è con G7, gli allievi della maestra Angela Regna ci presentano desnudamente. La coreografia è con G7, gli allievi della maestra è contestano del gruppo, nel corso di questi anni si è libera alla della, tu vai e tu santurità e aiuto a te sensual io tu parlo nel mio amico e tu resta la mano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.